ma tutti ragazzi sono sempre io e oggi siamo su down under ok ok in poche parole da quanto ho capito si è perso questo reci wow ah è un cane che bella sta mappa bene finalmente abbiamo una torcia era quello che ci serviva posso salire ma certo che no ci sono passato attraverso wow non toccare le mie uova ma che non le voglio nemmeno toccare andiamo di qua cosa cos'era questo rumore mi devo preoccupare mi devo preoccupare ma che bello questo teschio ho sentito il cane ti vengo a salvare ovunque tu sia spero che non mi sbuchi nessuno vado ne mette ansia sto gioco sono tornato al punto di partenza che bello allora andiamo di qua porco due che cos'è scappa porco due quanto sei brutto e ho perso ok mi dici di andare di qua vediamo basta che non mi spunta di nuovo quel coso brutto come la fame ma non dobbiamo toccare queste uova ma che cazzo messa di impegno questo come donna quanto sei brutto ma sei brutto impossibile ma la donna quel tubo mi fa cagare in mano ogni volta adesso attenzione un passo falso e sbuca quel tipo piano piano con due non vado più da quella parte non vado più ok da quanto ho capito devo seguire le luci e non devo pestare le uova ok sento il mio cane in vicinanza speriamo che c'è la faccia lo sento è qui mio dio ho sentito un passo brutto o anzi è veramente lo sento lo sento no no dai ti salverò porco due scappa 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 co2 ti salverò basta che non sto girando in tondo come il mio solito ho sentito abbagliare da questa parte sperando tu sia qui è bloccato e volevi bloccarmi e adesso speriamo di trovarlo ho sentito ho sentito da queste parti ho sentito è qui però non vedo nulla è qui è qui me lo sento dai ti salvo dove andare adesso mi sa che ho fatto la strada sbagliata ma io sento qui il problema che sto girando in tondo vediamo di cui okay ho sentito ho sentito no 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 non lo scappa 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 dai lo salveremo secondo me conviene andare di qui Madonna Non vorrei allontanarmi troppo Bene, sì, mi sono bloccato Lo sento vicino ma non capisco di preciso dove Porco due, porco due, porco due Scappa, scappa, scappa Scappa, 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 scappa Madonna, mi sono preso una caga in quella Incredibile Ma è fatto bene sto gioco, cavolo Mi sa che è di qua Ok Siamo arrivati in questa sala Mettiamo elettricità Non sto capendo cosa sta facendo Non toccare le uova Non ho capito cosa deve fare Vabbè Sarà rotto qualcosa Dove sei? Che cosa è? Quanto è brutto sto rumore Oddio Dimmi che l'ho trovato Con cautela Con cautela Non rompiamo le uova Guarda in alto Forse ho capito dove No, no No, è proprio qui lui C'ero quasi C'ero quasi No, da capo Dai, cercerò quasi Forse ho capito dove Non luce Non muoverti Non respirare Vabbè Ma io devo capire dove è il mio cane È qui, è qui Perché c'è il simbolo del teschio È vicinissimo Lo sento, è vicinissimo Dai dimmi che Che stai qui Ok Se non è di qua Sarà a fianco Madonna Non sto capendo Mi sto perdendo Madonna Ho sentito un rumore brutto Eccolo Eccolo Ho trovato Perché sento a bagare Lui sta dormendo Cane Cane Non posso fare nulla Devo cercare di andare Dall'altro lato Da quanto ho capito Devo entrare Dall'altra parte Quindi devo trovare L'entrata Dove sei Stupido Coso Io scappo Per sicurezza Ciao Ma che Mi segua Sento i suoi passi Porco due Porco due Porco due Porco due Porco due Porco due E scompare nel nulla Che che Ma se me lo vedi in faccia Muoio Ma l'abbiamo scoperto Che il cane è qui Mi sa che sto girando in tondo Madonna Non tolgo Gli labirinti Quelli brutti Allora Se qua C'è lui Ma devo Che Non ho capito Che devo fare Più difficile del previsto Allora Dove andare di qua Ecco Ecco Dove sei Orca madonna Non so quello che sto facendo Oh mio dio Non mi prenderei mai Madonna come sono scappato Come sono scappato Mamma mia Sono scappato dalla morte Bruttissima Ma io non ho capito Come devo entrare qua Oddio È qui Che amazzo La famiglia Porco due Porco due Porco due Porco due Porco due Madonna Come devo entrare qua dentro Un sistema c'è per forza Madonna Non lo sto capendo Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè È ovunque Allora Guardiamo attentamente Porco due Scappa C'è il nemesis E scappa Sono in trappola Sono in trappola Porco Porco il demonio Quanto sei brutto Mi sono perso Dai no Sono morto Sono morto Dai che sfuga la morte Dai che sfuga E lagga pure Vai a quel paese Quanto sei brutto Non subito Non subito Porco il demonio Ma scappa Scappa Mmh Jump the gap C'è in qualcosa A queste parti Mmh Ho capito Forse Bene Impedito a saltare Proprio Dai che ce la posso fare No 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 Ho pestato un uovo Scusami Non volevo Eh volevi Volevi Non ce la fa Non ce la fa Vai aspetto pure Quando vuoi farti vivo Vai aspetto Tu non ce la fai mai a saltare Ti ho fregato Mio caro Ti ho fregato Possiamo stare qui Pure tutto il giorno One eternity later Inutile Mi ha fottuto Porco due Dove 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 Porco due È impossibile raga Non pestare le uova Che quello si incazza Allora Arriva sopra Ok Non ci riesco È abbastanza complicato il gioco No 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 Eccolo lui Incazzato come la morta Ciao Sono morto È impossibile sto gioco Va bene raga Direi di chiudere qua Questo video Non sono riuscito a concludere il gioco Non so se qualcuno sia mai riuscito Spero che vi sia piaciuto Se si lascia il like Iscrivetevi al canale Mettete un bacio e pagina a facebook Trovate i link in descrizione con altri social E niente Noi ci vediamo al prossimo video Bella a tutti raga